Vi ricordo la giornata dedicata ai gentlemen, con Ciri e Gina, Tris, quarta e quinta è nella ultima. Quattro anni sul miglio, solo femmine, non corre Raisa Rigal, aveva il numero 7, e il mezzo meccanico è in movimento, 1-4 legata dai rapporti di scuderia, così come 2-12. Totalizzatore orientato verso Ramona K.D. da Biagio Bevi, l'acqua in Salchi. Buono allineamento. Quattro anni solo femmine, miglio, via la macchina. Rosi B. Power, facile nei confronti di Rapsodia del Nord, con allargo Rossella Lewis. Punta in avanti la Rossella. Sarà un freeway da parte della targata Lewis, 200 in 13,6, la Rossella al comando. E ora lei a dettare i tempi al completamento della piegata. Nelle prime posizioni la Rapsodia del Nord, in terza posizione, e poi è partita la grande Rance Club. 29,5 e 400. E davanti alle tribune, Grado Appiacimento, la leader. Mentre fuori corsa è Ramona Cappadete, imitata dall'11. Rance Club, che aveva sbagliato poi, appena dopo la posizione che aveva preso. 45,2 e 600. E' impiegata il numero 8, Rossella, a graduare ulteriormente. Nessuno fa la prima mossa. Per lì in esterna è Rose Moodle, che cerca la risalita per andare sulle prime. Mezzo miglio in 1,1 e 2, 16 di frazione. Per il momento è untouchable la leader. E continua con 2,3 di margine nei confronti di Rosi B. Power, Rapsodia e l'1 di Rania Robb. All'argo la Rossella Griff. Chilometro in 16,3. 500 alla meta. Le cavalli A affrontano la curva finale. Il 12 a tabellone. Allunga disinvolta la leader e prende ancora qualche lunghezza di vantaggio. 14,6. 1,31 e 3, tre quarti di miglio. E la Pine Chip affidata al Simioli, che è il leader dei gentlemen italiani, indirittura si presenta quasi solitaria. Per proprio conto la Rossella viene via la grande Rapsodia del Nord. E' un po' ferma la leader. Simioli deve far uso di braccio e frustini. Il palo si avvicina. Rapsodia, Rapsodia! Rapsodia, Salvatore Mineo, stampa l'avversario. Terza Redalod, numero 13. E' accaduto di tutto. Sembrava ormai avviata verso una vittoria, ma gli sono mancati proprio gli ultimi metri. Ma bisogna dare atto a Salvatore Mineo, che ci ha creduto, fino in fondo, con la sua allieva. Rapsodia, 8,92 la quota. 2,2 la distanza. 1,16,3. 2,8,13. E per il momento linea alla regia.